la comunità dell'isoletta del boepeba che fa la musica abbiamo qua dei turisti io ho aperto lozzo zengi laggiù facciamo costoletta da bacchio a bucatina amatriciana roba leggera questo caldo che cos'è da un cane quello lo facciamo stasera il caciorro kenji questo qua è mio fratello ma nel senso perché ormai sono innamorato di lui e là c'è un'altra coppia dei turisti vediamo quello è artigianato qui si chiama artesanato andiamo a vedere cosa sta costruendo particolari dell'isola benale venalissima guarda come se taglia una mano ma è morbido il legno o ce l'hai particolarmente affilato del coltello è lui che è Hulk ah comunque questo Jesse è come sacco lo guarda ancora più morto ah ok cioè secco lo guarda ho capito con chi sto dormi io ho capito che mi devo portare quando non mi piace tutto perché sono pericolosa la spada della roccia la versione brasiliana della spada della roccia eccolo una tela, intreccio una tela ho 4 reali se li prese qua, cosa sa?